C'è una differenza sostanziale tra ideologia e idea. Le ideologie sono un complesso, una combinazione di idee, che diventano spesso dogma imposto. L'ideologia è ingessata ed essendo schiava del dogma non approfondisce. Viaggia su stereotipi e su sovrastrutture fisse, che sono spesso contraddittorie, ingiuste e superficiali. E poi ci sono le idee, che sono libere da quell'ingessatura, ma soprattutto libere dal colore politico. In questi ultimi giorni se ne sono dette moltissime su una questione che a mio avviso viene affrontata solo ed esclusivamente in virtù delle ideologie. E sta cosa a me francamente me fa un po' paura. Stiamo parlando della questione maternità surrogata. E per favore, prima di partire in quarta con questo video, ascoltatelo fino alla fine. Prima di trasformarvi in questo, o nell'incarnazione del chad super etero? Vi prego, aspettate. Perché la questione è molto complessa e non si può ridurre ad un gioco tra le parti politiche. La maternità surrogata è tornata alla ribalta in questi giorni, ma secondo me nessuno ha realmente capito il perché sia tornata in auge. Quindi cominciamo a mettere la tematica nella giusta prospettiva. Perché se ne sta parlando? Tutto parte dallo stop del governo che ha negato il consenso a un regolamento della UE sul riconoscimento automatico dei figli anche di coppie dello stesso sesso in vista di un certificato europeo di filiazione. In sintesi, un figlio di una coppia omoaffettiva che viene riconosciuto come tale in altri paesi più liberal rispetto al nostro non viene invece riconosciuto qui. Quindi si parla del concetto della filiazione ed è in virtù di questo concetto che si è estesa la problematica anche alla questione maternità surrogata. Qui da noi infatti la maternità surrogata è vietata per legge, vietata nel nostro ordinamento dalla legge 40 2004. Ma questa pratica viene svolta in alcuni paesi europei in maniera del tutto legale e quindi la problematica diventa come dobbiamo trattare questi figli che vengono fatti con maternità surrogata legale da altre parti e non legale qui da noi? La tematica è tutt'altro che semplice, anzi molto complessa, molto profonda. E una tematica così complessa qui da noi è in mano alla classe politica più indegna di sempre, da destra a sinistra senza esclusione, che tratta tematiche del genere con l'unico obiettivo di solleticare la pancia dell'elettorato. La si butta così costantemente in caciara per evitare accuratamente di essere invece chiamati a rispondere su tematiche molto più urgenti per il paese. Tematiche che sarebbero anche probabilmente più semplici da risolvere. Ma loro no, figurate. Loro sul divide timpera ci contano. Loro devono piantare bandierine ideologiche. Il tutto condito con della retorica spiccia. A me non preoccupa la questione in sé che una politica degna affronterebbe in modo serio, equilibrato, responsabile. A me preoccupa che a parlarne ci siano i fidelizzati di zaniana memoria. Quelli che pensano che i figli siano il coronamento di uno status, che vogliono i figli per affermazione personale. Quelli che trattano la genitorialità come se si dovesse scegliere di che colore comprarsi il chihuahua. E dal lato opposto quelli che pensano che la maternità surrogata sia paragonabile alla pedofilia. Questo l'ha detto Mollicone. Capito emana chi sta la responsabilità su una tematica così delicata? Ecco, sia l'uno che l'altro esempio sono le cazzate che genera l'ideologia. Perché seppur a livello ideale anche io credo che una famiglia sia composta da padre, madre e figli e che non ci sia maggior diversità di un padre ed una madre, l'idea però, e non l'ideologia, mi fa dire che non sia giusto andare da un bambino che già c'è, cresciuto in una famiglia omoaffettiva dicendogli che uno dei due genitori non è riconosciuto come genitore. E questo solo perché la sua famiglia non coincide con la mia idea di famiglia. E sempre l'idea mi fa dire che non sia altresì giusto trattare i figli come se fossero prodotti da scegliere a un mercato. Il nodo su cui si discute però è proprio quello della filiazione. Visto che da tutte le parti parliamo tanto di tutela dei bambini, i bambini non dovrebbero diventare strumento di una bagarra politica. La maternità surrogata diventa oggetto di dibattito per via di un'accumunazione. Ed è qui che avviene il minestrone politico. Ma forse in questo senso la storia può aiutarci a chiarirci un attimo le idee. Perché se conosciamo la storia conosciamo noi stessi e quindi forse possiamo essere un po' più lucidi quando parliamo di tematiche così delicate. Perché per qualcuno sarà sconvolgente sapere che la tematica della maternità surrogata così legata ad un'idea di progresso in realtà nella storia c'è sempre stata. In epoca romana la pratica infatti era assolutamente diffusa. Celebre fu il caso di Marzia citata anche da Dante. Marzia vive nella tarda età repubblicana siamo nel 62 avanti Cristo. Come accadeva per tutte le donne di quell'epoca viene costretta a sposarsi dalla volontà paterna. Lucio Marcio Filippo la dà infatti in sposa a Catone. La morale comune di quell'epoca non prevedeva matrimoni per sentimento ma si facevano i matrimoni per status, per consolidare rapporti politici, rapporti economici, rapporti tra famiglie. Le donne si sposavano giovanissime intorno ai 12-13 anni e Marzia era una di queste. Era una donna casta, obbediente, sottomessa alla volontà del padre, rappresentava in sintesi tutto quello che una donna romana doveva avere. Molto devota al marito dà a Catone due figli. Trascorre le sue giornate filando, crescendo la prole, occupandosi del focolare domestico. Per la società romana è la perfetta incarnazione del ruolo femminile. Ma a un certo punto irrompe un personaggio nella scena ed è Quinto Hortensio Ortalo, illustre, oratore e avvocato romano. Ha 60 anni ed ha un problema, la moglie non gli ha dato ancora un figlio. È amico di Catone e senza troppi giri di parole gli fa una proposta. È Plutarco nelle vite parallele a raccontarci esattamente quale fu la richiesta che fece l'amico. E la richiesta di Ortalo era inizialmente quella di prendere sposa la figlia di Catone. Ma Catone rifiuta perché la figlia è troppo giovane. Ortalo invece è molto determinato nel suo obiettivo e quindi se tua figlia non va bene, perché non tua moglie? E Catone accetta. La legge e la morale dell'epoca stabilivano infatti che il marito avesse ogni tipo di proprietà nei confronti della moglie, compresa anche questo tipo di proprietà. E il caso di Marzia non è un caso isolato. La maternità surrogata, che era diffusissima, non aveva a che vedere con il desiderio di maternità o paternità. Aveva in realtà una finalità specifica che era quella di contrastare il calo demografico. Già dal primo secolo avanti Cristo infatti a Roma la natività aveva subito un crollo. Concepire per le donne era un dovere civico. Un dovere civico così sacro che nemmeno le vedove potevano sprecarlo. La prole era ricchezza, la prole sigillava rapporti tra le famiglie. La morale che noi adottiamo oggi è molto differente da quella di allora. Anche i cosiddetti valori tradizionali sono molto diversi. Andando ancora a ritroso nel tempo, un altro caso archeologicamente famoso è conservato all'interno del museo di Istanbul. È in realtà una sorta di contratto, dove si cita la possibilità per tale l'Akipum di ricorrere a maternità surrogata nel caso la coppia non avesse avuto figli nel giro di due anni dal matrimonio. Si fa riferimento alle hierodule, che erano giovani schiave che amministravano il culto sacro nei templi e in alcune occasioni esercitavano una sorta di prostituzione sacra. Facendo da madre surrogata, la schiava otteneva in cambio la libertà. Nel corso della storia la maternità surrogata è andata avanti fino ad oggi. Quindi ci dovrebbe scandalizzare la pratica in sé? Assolutamente no. Quello che ci dovrebbe scandalizzare è che noi non siamo né la Roma del primo secolo avanti Cristo né la società assira delle hierodule. Quello che dovrebbe scandalizzarci è che nonostante i progressi della storia, della filosofia, della morale, dell'etica, di fatto il ruolo dei figli come status sembra non essere minimamente cambiato. In una società dove i figli si fanno sempre di meno, quello che dovrebbe scandalizzarci è che proprio perché sono pochi non dovrebbero diventare oggetto di commercio. Dovrebbe scandalizzarci questo commercio dove si confonde il desiderio di genitorialità con il desiderio invece di farsi assemblarsi i figli come fossero un avatar. Dove ci sono cataloghi dove poter scegliere il colore dei capelli e il colore degli occhi. Togliendo umanità alla più umana delle incognite. Proprio quella dell'essere genitori, del non sapere né come saranno né cosa diventeranno i figli. Dovrebbe scandalizzarci che nel 2023 quello che definiamo progresso o a cui diamo il nome di diritto sia in realtà un diritto di casta. Di chi ce l'ha 40.000 euro per ricorrere a quella pratica? Discriminando in maniera feroce ma non per via della sessualità ma per una discriminazione di casta dove eterosessuali o omosessuali magari sinceramente più devoti alla genitorialità non possono permettersela. E nonostante ci si impegni ad esprimere una differenza tra maternità solidale o mercato, una differenza che è sostanziale e che c'è, il tutto però si perde in un bicchiere d'acqua. Perché in una società dove diciamo alla gente di doversi accettare in tutto e per tutto, dove la cultura della normalizzazione di letteralmente qualsivoglia cosa regna sovrana non si riesca a normalizzare la cosa più naturale di questo mondo. Cioè che a questo mondo c'è anche chi i figli non può averli. Nel mondo dell'accettazione di se stessi sublimata ai massimi livelli non si riesce a sradicare questa idea che i figli non sono espressione dello status personale e non sono né gadget da esibire né podio dell'affermazione personale. Ed è questo che a me farà brividire. Non la cosa in sé ma il circuito ideologico e politico che gli ruota intorno. Dove le questioni sui figli portano inevitabilmente i figli ad essere l'ultima ruota del carro. Tra una sinistra che li tratta come se fossero lo shampoo da scegliere ad un mercato e la destra che li tratta come se fossero diritto esclusivo di chi decidono loro. Ecco perché me fa paura. Perché è una questione che richiede altezze a chi non c'ha manco le basi.